Così sapete rispondere bene alla maestra? Sì, io sono stato in battesimo della mia sollerina, della mia mucinetta e il sacerdote ha fatto così, eh? Sì, io sono stato in battesimo della mia solle, e del figlio e dello Spirito Santo, amico. Madrina, tu le assumerai a Leonardo. Leonardo, io te parteso nel nome del Padre e del figlio e del Spirito Santo. Te hai svegliato, piccolo. Una lindura escapita. Così se sveglia. Un don milione. Grazie. 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 Grazie.